E' stato vano al momento anche l'intervento del sindaco di Chieti Diego Ferrara nella vertenza alla panoramica società che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo teatino. Annullati tutti gli accordi aziendali con 300 euro in meno al mese in busta paga per i lavoratori denunciano i sindacati Filt CGL, FIT CISL, UGL Autoferro e Faisa CISAL. Le motivazioni addotte a sostegno della disdetta degli accordi aziendali sono del tutto infondate ed i lavoratori sono ancora senza cassa integrazione. Questa disdetta è arrivata proprio nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria, della pandemia e tra l'altro in una condizione in cui i lavoratori stanno ancora aspettando di ricevere integralmente le somme relative agli ammortizzatori sociali. Quindi ripeto noi sicuramente abbiamo apprezzato questo intervento del sindaco però il momento è insufficiente quindi il sindaco ha dovuto prendere atto diciamo di un comportamento sbagliato da parte delle aziende che accampa motivazioni economiche rispetto a questa decisione pur sapendo che le aziende di trasporto a differenza delle aziende industriali, le aziende commerciali che quando sono in crisi rispondono in prima persona, queste aziende in realtà hanno i benefici dei contributi pubblici e il governo nazionale e regionale ha finanziato, ha provveduto a finanziare queste aziende anche durante la pandemia garantendo il 100 per cento delle risorse.